Siamo qui alla porta di Siviglia, sono le 11 e mezza e pensate che l'aero ce l'abbiamo tra ben otto ore otto ore qua sotto, ma stai? Vuoi chiedere come inganniamo il tempo? Beh, questo è un esempio di come inganniamo il tempo Così lo inganniamo il tempo Otto ore così, otto ore così, otto ore così C'è chi dorme Questa è la migliore invenzione avuta fino ad adesso, da quando stiamo qua